Ben trovato viaggiatore emozionale, in questo video scoprirai quali effetti sorprendenti il bosco esercita sulla nostra salute e sulla nostra psiche, secondo le conoscenze scientifiche che dimostrano ancora una volta quanto sia importante ascoltare la nostra voce interiore e recarci con regolarità nel bosco per trovare un luogo di riposo e di cura. Se siete interessati a questi argomenti mettete un like, cliccate sulla campanella, condividete e iscrivetevi per incentivare altri video a tema. In Giappone lo Shinryoku è ormai una tradizione da svariati decenni, da quando nel 1982 l'ente forestale statale ha introdotto questo concetto nella foresta ricreativa di Akazawa. Numerosi boschi sono stati ufficialmente riconosciuti come centri terapeutici. In questi boschi è possibile fare passeggiate individuali o di gruppo, come pure prendere parte a programmi sanitari. Nel 2004 in Giappone si è finalmente iniziato a sottoporre ad approfondite ricerche scientifiche gli effetti della foresta sugli esseri umani, allo scopo di comprovare con dati empirici le osservazioni condotte nel corso di molti anni e acquisire nuove conoscenze. Dal 2012 in alcune università giapponesi è stato istituito un apposito settore di ricerca in Forest Medicine. Nel frattempo i risultati delle ricerche nell'ambito della medicina forestale vengono ottenuti in grande considerazione in tutto il mondo e ha ragione poiché sono sorprendenti. Di seguito parleremo di alcuni degli effetti dimostrati. La permanenza nel bosco riduce la produzione di ormoni dello stress, regola la pressione sanguigna e il tasso glicemico, previene le malattie cardiocircolatorie, potenzia le difese immunitarie e aiuta la prevenzione del cancro. Inoltre utile in caso di malattie respiratorie, artrosi e problemi come disturbi del sonno e iperattività. Di seguito viene fornita una descrizione più dettagliata di alcuni di questi stupefacenti effetti salutari. Gli studi del professor King Lee, uno degli scienziati di spicco nel campo della medicina forestale presso la Nippon Medical School di Tokyo, dimostrano che durante il bagno nella foresta si formano tre diverse proteine anticancro e una quantità maggiore di cellule killer naturali, in grado di riconoscere e annientare le cellule cancerogene e quelle infettate dai virus. Nell'ambito di diversi studi, insieme al suo team di ricercatori, il professor Lee aveva mandato diversi gruppi di cavie umane a fare lunghe passeggiate nel bosco per alcuni giorni di seguito. Al momento della valutazione dei campioni di sangue prelevati ai partecipanti dopo il bagno nella foresta, aveva constatato che il numero e l'attività delle cellule killer naturali erano sensibilmente aumentati. Secondo uno studio, l'attività delle cellule natural killer aveva subito un incremento del 26,5% il primo giorno, mentre il secondo giorno, dopo che le cavie erano state a più riprese nel bosco, aveva raggiunto un impressionante 52,6%. Tuttavia c'era un risultato ancora più strabiliante. Perfino 30 giorni dopo le escursioni nel bosco, le cellule natural killer dei partecipanti evidenziavano un'attività significativamente superiore. Questo effetto positivo ha quindi una durata sorprendentemente lunga. È sufficiente un bagno nella foresta una volta al mese per ottenere un incremento dell'attività delle cellule natural killer, che si protrae per 10 giorni, e quindi favorire le difese immunitarie endogene e fornire un supporto mirato alla prevenzione del cancro. L'effetto maggiore si ottiene se si va a camminare nel bosco per due giorni di fila, perché in tal caso l'azione benefica dura per circa un mese. Per questo il professor Lee consiglia in genere di andare a passeggiare nel bosco per due ore almeno, due o tre volte al mese. Tra l'altro, per avere un confronto, l'equipe di ricercatori aveva chiesto a un gruppo di partecipanti all'esperimento di passeggiare in città e poi ne aveva analizzato i valori ematici. In quei soggetti non si era però rilevato alcun aumento delle cellule natural killer o della loro attività, e dunque dimostrato che gli effetti positivi sono riconducibili all'azione del bosco. Ma da dove ha origine l'azione benefica del bosco sulla salute? Secondo i ricercatori come King Lee, questo effetto dipende dai cosiddetti fitoncidi, che vengono ispirati quando ci si sofferma sotto gli alberi. In questo modo ci si sottopone in maniera automatica a un'aromaterapia. I fitoncidi sono sostanze rilasciate dalle piante per proteggersi da insetti, da peri e funghi. Mediante gli oli essenziali, tuttavia, gli alberi non si difendono solo dai predatori ed altri pericoli. È interessante notare come utilizzino le più svariate molecole odorose anche per comunicare con gli altri alberi della zona. Anche questi esemplari vicini emettono fitoncidi per armarsi a loro volta contro i parassiti. Non solo gli alberi, ma anche le altre piante utilizzano un sistema estremamente complesso, costituito da migliaia di sostanze odorose, per inviare messaggi. Gli studiosi stanno cercando di comprendere sempre meglio questo affascinante fenomeno e di decifrare il linguaggio delle piante. Ad oggi sono già stati identificati circa 2000 diversi vocaboli delle piante a livello mondiale. Il cocktail odoroso a base delle molecole volatili rilasciate nell'aria dagli alberi forma uno scudo protettivo molto efficace per l'organismo umano. Il professor Lee è riuscito a dimostrarlo tramite un rivoluzionario esperimento. A un certo numero di soggetti è stato richiesto di dormire in alcune camere d'albergo. Nelle stanze in cui pernotava una metà dei partecipanti era stata vaporizzata nell'aria una miscela profumata a base di diversi terpeni silvestri. Di fatto il giorno seguente i campioni di sangue di quel gruppo aveva presentato un netto aumento delle cellule killer naturali e anche della loro attività. Lo studio di Lee dimostra inoltre che le cellule immunitarie come le natural killer vengono effettivamente stimolate dai terpeni e che le sostanze odorose esplicano la loro azione positiva sugli esseri umani non solo nel bosco ma perfino in forma isolata. Pertanto può risultare molto efficace anche una aromaterapia praticata a casa utilizzando pregiati oli essenziali del bosco. Nei prossimi video scoprirai altri effetti sorprendenti che il bosco esercita su corpo mente e spirito. Se vi è piaciuto questo viaggio di approfondimento sugli effetti sorprendenti che il bosco esercita sulla nostra salute e sulla nostra psiche mettete un like lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Cliccate sulla campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati altri video. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni. Un caro saluto viaggiatori e viaggiatrici emozionali.